Scambio e formazione nel settore dell'energia rinnovabile. Questo è il significato dell'acronimo inglese EXTRARES, il nuovo progetto presentato da Estra, con la partnership di CNA Arezzo e Mercury SRL. È un progetto che ha ottenuto un finanziamento regionale, noi l'abbiamo presentato, e siamo ben felici perché ci permette, con risorse della regione toscana, di mandare i giovani del nostro territorio a fare esperienze formative all'estero. Tre lezioni previste, un tirocinio formativo di quattro settimane presso aziende estere per 15 studenti di scuole medie superiori, stage di 13 settimane per 25 laureati studenti universitari ed infine visite seminari tecnici per 10 tra imprenditori e rappresentanti delle parti sociali presso aziende estere. Al progetto partecipano le scuole ITIS Galileo Galilei e ISIS Margaritone di Arezzo, mentre il bando per laureandi e laureati si aprirà a giorni. Le città europee dove saranno svolti i tirocini formativi sono Londra, Francoforti, Viseo in Portogallo e La Corugna in Spagna. I ragazzi lavoreranno in un'azienda che è stata selezionata nel settore delle energie rinnovabili, che è stata selezionata attinente al percorso formativo dei ragazzi. lavoreranno quindi, applicheranno quanto appreso durante il percorso di studi.